Sono molto stanco, dico proprio tranquillamente, sono appena tornato a casa dallo stadio e la prima cosa che faccio è registrare le pagelle a notte fonda per portarvele poi domani mattina presto, dato che avete apprestato l'altra volta, quindi diventerà una sorta di abitudine risvegliarsi con le pagelle, anche se oggi purtroppo dobbiamo commentare una sconfitta, dobbiamo cercare di valutare quella che è stata una brutta prestazione da parte della Juventus e che si spera possa diventare una sorta di, come diceva Davom, schiaffo morale, una sorta di sberla che vada un attimino a liberarci in attesa di giovedì. Vi dico la verità, in questo momento sono molto pessimista, molto pessimista, nonostante la vittoria per 1-0 dell'andata contro lo sport in Lisbona, ma di questo magari parleremo un po' più avanti in un altro contenuto. Oggi cerchiamo di focalizzarci sulle pagelle che secondo me saranno abbastanza lunghe, davvero lunghe, quanto più nella parte che riguarda l'allenatore piuttosto che in quella che riguarderà i calciatori. Vi dico già che oggi pomeriggio comunque uscirà un altro video, se non due, devo capire se mettere insieme live reaction o incontro con i calciatori, oppure se semplicemente dedicare il contenuto all'incontro con i calciatori e lasciare soltanto due o tre clip della live reaction, dato che è stata una partita abbastanza noiosa, un primo tempo veramente terrificante, un secondo tempo nel quale speravo di vedere qualcosina di più, invece addirittura per l'aiuto ho visto qualcosina di meno, nel senso che abbiamo pure preso gol. Io vi ricordo che c'è l'altro video, appunto quello post partita, da guardare, la mia faccia racconta un pochino tutto, l'emozione, il mood che si viveva in quel momento, ne approfitto per chiedervi scusa, se non avete ancora visto spoiler alert, ma non è venuto un gran video, me lo sono riguardato e stavo camminando, mi stavo muovendo per lo stadio, dovevo raggiungere appunto la transenna dove poi ho incontrato i calciatori, quindi ci aveva richiesto addirittura di uscire prima della fine della partita e non ce l'ho fatta, non ce la faccio uscire dallo stadio prima della partita, mi dispiace, quindi ho dovuto cercare di unire l'utile al dilettevole e il video è venuto così, mi dispiace, so che non è stata una roba professionale, ma piuttosto che lasciarvi senza video post partita questo era l'unico modo che avevo a disposizione per cercare di incastrare tutte le cose, quindi so bene che quando sono a casa è tutta un'altra roba, invece quando sono allo stadio purtroppo bisogna un pochino accontentarsi, io sono il primo a non essere soddisfatto di questa cosa. Massimiliano Allegri, voto 4, dicevo prima, questa sarà più una riflessione a cuore aperto nei confronti di quella che è la guida tecnica della Juventus, perché io sono veramente convinto che oggi, se noi andavamo a prendere, vi dicevo, questo è un pennarello, scegliete voi, scrivete voi la formazione, fate la formazione che volete con gli 11 calciatori che reputate più forti al mondo, metteteci Mbappé, Holland in attacco nel 3-5-2, metteteci, non lo so, De Bruyne, tutti, veramente, scegliete tutti i calciatori del mondo che volete, schierate i titolari nel 3-5-2 e fatevi giocare questa partita, preparata come è stata preparata oggi, non la vinci, non la vinci, la partita di oggi non la vinci neanche scegliendo gli 11 calciatori migliori al mondo e dall'altra parte puoi metterci qualsiasi squadra di Serie A, qualsiasi squadra di Premier League, qualsiasi squadra di Ligan, qualsiasi squadra della Liga Portoghese, di qualsiasi principale campionato europeo, scegli la squadra a mettere di là e tu metti la squadra che ti parla nei titolari, non vinci, se oggi fai un'altra partita da 90 minuti non fai gol, non vinci, perché veramente ragazzi mi fa anche incazzare, puoi sentire che l'allenatore ai microfoni dice abbiamo preso gol e questa cosa ci ha fatto svegliare, a me è sembrato evidente che sia stata preparata una partita non all'altezza di una gara di Serie A, non all'altezza di una gara della Juventus, io ribadisco, io capisco che ci siano le coppe, io capisco che sia una partita in mezzo, un'andata al ritorno europeo, però ragazzi, non è che si può ignorare completamente, non è che si può scendere sempre in campo, sempre ogni partita dicendo noi siamo più forti e quindi qualcosa viene fuori e quando trovi uno che non è più forte cosa facciamo? Perché io non posso ancora sentire ci sono partite da giocare, partite da vincere, oggi non hai né giocato né vinto, ci vuole un po' più di rispetto nei confronti degli avversari mister quando si preparano queste partite e apro e chiudo una parentesi, questa mi tocca personalmente un po' più di rispetto anche per i tifosi che vanno allo stadio, perché uno va allo stadio per ottenere qualcosa, c'è da fare gli applausi, da fare una standing ovation alla curva che dal primo all'ultimo secondo ha cantato, continuando a incitare, a sostenere la squadra, ma cosa sostieni? Io faccio un po' fatica oggi a trovare delle colpe nei ragazzi, io oggi, lo vedrete anche nelle pagelle, sicuramente non sono tutti sufficienti ma faccio un po' fatica a trovare dei responsabili tra quelli che sono scesi in campo, perché se quello che deve decidere come scendere in campo e come strutturare la partita, mi parte col presupposto che la partita non verrà giocata, questo è il risultato, qualcuno mi dice, ma guarda che giochiamo così da inizio anno, io non sono d'accordo con questa cosa, io a febbraio ho visto una Juve che aveva iniziato ad aumentare il giro del motore, a marzo ho visto una Juve che è iniziata ad andare un po' più in difficoltà, che cercava di aggrapparsi a quello che aveva fatto nel mese precedente, arrancava un pochino, diceva bene, un attimo di calo, ad aprile si sta vedendo una roba terrificante con l'Inter, con lo Sporting, col Sassuolo, con la Lazio, con l'Elas Verona, può essere qualsiasi avversario che lo spartite lo stesso lo vai a leggere, cambia soltanto il risultato, magari una volta la vinci, magari una volta la pareggi, magari una volta la perdi, questo sì, il mese di aprile è tutto sulla stessa falsa riga, e in tutto il mese di aprile potevi scegliere i giocatori che volevi in serie a mettere all'interno una formazione che non cambiava niente. Ora, siamo alla vigilia veramente di una partita, manca pochissimo, che è la partita che ti decede la stagione, in bene o in male, perché qua da salvare c'è la faccia, si vuole riempire il calendario, si vuole andare avanti, come credo che sia giusto fare, si lascia completamente da parte tutto quello che abbiamo visto all'aprile, perché se adesso le prestazioni iniziano ad esserci ancora meno rispetto a prima, e prima non è che ci fosse il Barcellona di Guardia Valle del Triplete, c'era una squadra che semplicemente aveva trovato la quadra, se noi questa squadra che ha trovato la quadra chiediamo anche di giocare sotto ritmo, è finita, è finita, perché questa Juventus qui, se va sotto ritmo, è finita, se va sotto ritmo questa Juve non crea niente. Quando abbiamo iniziato a creare due o tre occasioni, la traversa di rabbio sul colpo di testa sul calcio d'angolo, l'occasione di Di Maria che nasce da chiesa, non hai fatto chissà che cosa, è semplicemente alzato un pochettino il ritmo, e la cosa che mi fa incazzare è che alzando quel pochettino il ritmo, nel momento che avevi già preso lo schiaffo, e la Juve non può dover prendere uno schiaffo per iniziare ad aumentare un pochettino il ritmo, non può, mi dispiace, è che poi dietro sei esploso, perché dopo eri obbligato ad attaccare per cercare il pareggio. Una sorta di equilibrio tra queste due cose non è che la chiedo, ci deve essere, ci deve essere ad aprile, quando vai a giocarti la stagione, perché con questi presupposti qui, il passaggio del turno, te lo dimentichi, te lo scordi, te lo scordi, perché già la partita con lo Sporting è stata una sorta di miracolo sportivo la vittoria della Juventus, perché la Juventus non meritava assolutamente di vincere, come non avrebbe meritato di vincere oggi a Reggio Emilia, assolutamente no, quindi io faccio un po' fatica oggi a mettermi qui e fare le pagelle dei giocatori, ma se scendono in campo con la consapevolezza che viene chiesto di risparmiare le energie, oggi è stato palese che Juventus abbia iniziato a giocare col freno a mano tirato, io trovo anche assurdo che arrivati dopo un anno e mezzo, un anno e mezzo, che c'è Vlaovic e il Rosano i Ventus, lo schema standard sia palla al portiere, che la passa al centrale, che la passa al portiere e spara sull'attaccante, cioè avessimo un giocatore come Giroud, che sai che è quello il suo pane quotidiano, Vlaovic fa una fatica bestia, è in un momento terrificante dal punto di vista psicologico, non provi nemmeno ad aiutarlo, ad agevolarlo, è come se andasse bene così, come se non si fossero resi conto all'interno dello staff tecnico che forse c'è qualcosa che non va se Vlaovic continua ad andare in difficoltà con le palle alte e noi continuiamo a dargli le palle alte, cioè questo è un esempio banale, uno degli esempi banali, secondo voi è normale che la Juve faccia una sorta di mini turnover per cercare di far rifiutare Chiesa, Di Maria, Locatelli, Pogba, Quadrado, e poi si è invece costretta a metterli dentro praticamente tutti per cercare di salvare il risultato, perché il Sassuolo è meritatamente andato in vantaggio, perché nel primo tempo non è minimamente accennato alla volontà di provare a fare gol, perché non te ne fregava niente, perché andava bene mantenere lo 0-0, perché tanto poi vedrai che nel finale qualcosa succede, Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè il calcio è uno sport meritocratico, vince chi si merita, cioè per ottenere dei risultati bisogna meritarseli, ovviamente se non si è meritata niente Reggio Emilia, ma ripeto, non perché i giocatori vanno in campo svogliati, io ragazzi oggi ho visto il riscaldamento, ho visto l'arrivo allo stadio, i giocatori erano concentratissimi, concentratissimi, anche nel post partita, e tanti l'hanno accusata sta cosa qui, tanti l'hanno accusata sta cosa qui, secondo me i calciatori oggi avevano proprio voglia di portare a casa un risultato importante per cercare di scavalcare le milanesi in classifica anche in caso di conferma dei 15 punti, però a quanto pare alla guida tecnica questa cosa importava relativamente, e ribadisco, facciamo in modo di passare giovedì, facciamo veramente in modo di passare, facciamo finta che oggi sia stata fatta per risparmiare energie, e quindi è, facciamo finta che, perché per me non è così, facciamo finta che, se giovedì esci, non devi stare qui a parlare, discutere, cioè, sta Juventus non può permettersi di uscire giovedì, dopo una roba del genere con Sassuolo non può permettersi di uscire, io sono profondamente deluso, profondamente deluso, perché questa partita veramente mi è sembrata l'emblema, l'emblema del fatto che il modo di interpretare le gare da parte di Massimiliano Allegri nel 2023 non può esistere, non può esistere, quindi secondo me è un quattro secco, con la speranza che riesca a portare a casa Coppa Italia ed Europa League, e poi come vi dicevo già da un po' io, l'anno prossimo preferirei avere un altro profilo in panchina, perché oggi credo che la Juventus abbia altre necessità, e credo che anche il tifoso della Juventus abbia la volontà, la necessità di andare allo stadio in un momento del genere difficile appunto di vista di tante vicende, sapendo che almeno andrà a divertirsi, perché parliamoci seriamente, poi questo sarà un focus di un altro video che vorrò pubblicare un po' più avanti quando si avvicinerà davvero il giorno dello Sporting, ma oggi avete la sensazione, avete la convinzione di poter far risultato, cioè quando inizia una partita da Juve, quando c'è la musichetta dell'Europa League, la musichetta della Serie A, la musichetta della Coppa Italia, voi lì pensate che questa Juve possa fare risultato? Perché io oggi questa sensazione non ce l'ho, e passa dal fatto che so benissimo che quando va bene, facciamo due o tre tiri in porta nel secondo tempo, perché l'Andas ci sta portando a pensare sta roba, dove la Juventus a un certo punto sembrava essersi sbloccata, un pochettino dal punto di vista mentale, c'è stato un febbraio in dove si segnala due o tre, addirittura magari anche quattro gol a partita, c'è un marzo che ha iniziato a preoccupare, passando dalla partita con la Sampa, da te ritorno col Friburgo, e c'è un aprile che deve farti mangiare le mani, deve farti mangiare le mani, in attesa della sentenza del 19, tutt'altro che scontata. 87 a Perin, è che quando poi arrivi e il portiere è ancora il migliore in campo, come con lo Sporting, due domande te le devi fare, all'interno di una squadra che l'identità della Juventus è quella difensiva, se pensi alla Juventus di quest'anno, comunque in generale Juventus del Legri, pensi a una squadra compatta, che difficilmente prende gol, che è il portiere migliore in campo, per due partite di seguito. Questo secondo me è qualcosa che deve farti riflettere, perché Perin fa due buoni interventi, uno su Maxime Lopez, uno su una mischia, poi non riesce a prendere quello di De Frel, ma forza di dai, 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 il Sassuolo ha fatto 7, 8, 9, 10 minuti di fila, 5 minuti buoni di calce d'angolo uno dietro l'altro, sicuro. E sono situazioni francamente inaccettabili, per una squadra come la Juve, per in sette. 6 e mezzo gatti, uno vi giuro, dal vivo, si è visto proprio clamorosamente, uno dei pochi a voler salvar la faccia oggi, uno dei pochi a continuare a dire andiamo, andiamo, saliamo, non è un caso che poi nel finale, sulla destra vada a proporsi sempre di più, arrivi dentro un'area di rigore, provi addirittura a cercare un contatto per guadagnarsi un calcio di rigore, vecchia scuola, gatti è uno di quelli che non ci stava mica a perdere. Questa è la maglia della Juventus, la indossa da quest'anno qui, forse ha capito che cos'è lo spirito della Juve, che ogni partita è importante, non esiste la partita di Serie A, di Serie B, di Serie C, la maglia va onorata, sempre. Tanta roba Federico. 8-6 a Bremer, che con Pinamonti nel primo tempo domina abbastanza, poi Sassuolo inizia a avere delle occasioni un po' in generale, non un errore in particolare di un difensore, Sassuolo inizia a avere delle assegni, perché è una squadra che dà del tuo al pallone, non si fa dei problemi, cerca di andare dritto, cerca di andare a puntare, quindi Bremer tutto sommato ha fatto la prestazione sufficiente, così come secondo me non ha particolari colpe Danilo, che ha provato fino all'ultimo, anche dando la possibilità, stringendosi di allargare gli esterni, quindi prestazione sufficiente quella di tutta la difesa, non penso che in particolare ci sia un errore evidente da parte loro. Mi è piaciuto Barbieri, un micro errore nel primo tempo dove nasce un'occasione del Sassuolo, ma tanta spinta, negli ultimi metri mi sembra un giocatore che ha voglia di provare a puntare, questa è una bella notizia, perché tutta la stagione siamo stati qua a dire se manca quadrado, c'è De Sciglio, ma non ce n'è mai neanche De Sciglio, quindi bene Barbieri, secondo me si porta a casa il suo 6 in pagella, il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus da titolare, una partita intera fatta bene, quindi bene, bravo, mi sei piaciuto, lo voglio rivedere, queste sono le cose, le piccole soddisfazioni a cui mi aggrappo, abbiamo perso, perso meritatamente, una stagione che non sta andando bene, però ci sono dei ragazzi così e io questa cosa l'adoro, io questa cosa l'adoro perché è il punto di ripartenza, è l'unica veramente luce che vedo in fondo al tunnel in questo momento bianco-nero. Voto 5 a Fagioli, perché sicuramente l'errore è grave, quello su De Frel, fa un passaggio che De Frel se lo sogna praticamente di notte di ricevere anche solo da un suo compagno, però guai, vietato completamente, vietato completamente attribuire le colpe a Fagioli, cioè oggi non è che sia perso perché Fagioli, sicuramente ha fatto un errore che ha portato al vantaggio del Sassuolo, ma se tu ti ritrovi sempre in condizione di essere stressato, di avere il baricentro così basso sempre contro una squadra che attacca, non ha paura, viene su, prima o poi l'errore lo fa, se non lo faceva Fagioli lo faceva un altro, va bene, mettava in croce quell'altro, la Juve non è che può star lì, perché se il Sassuolo vince perché è semplicemente più bravo, in una partita in cui ve le date, ve le scambiate di santa ragione, non c'è nessun problema, siamo qui a dire, oh ragazzi, si perde, amen, capita, è successo, stati più bravi loro, va bene, noi abbiamo perso, stati più bravi loro, io ho già letto, troppe persone che prendono questo ragazzo e me lo mettono in croce, questo ragazzo, bisognerà dirgli grazie, perché ha tirato la carretta fino adesso, ha tirato la carretta fino adesso, ha cambiato il volto del centrocampo della Juventus, da quando è entrato lui, la Juventus è diventata un'altra squadra e ci sta che si faccia degli errori e io adoro vederlo piangere, adoro vederlo piangere, perché cazzo vuol dire che ci tiene lui questa roba qui, vuol dire che lui questa maglia la sente sua, una seconda pelle, alla faccia di tanti altri magari calciatori che hanno indossato la maglia della Juventus in ultimi anni che non mi fregava niente, si vinceva, si perdeva, era la stessa cosa, la sta sentendo, non è Fagioli che deve tirarti fuori dall'etame di questo momento, perché ti sbaglia il gol con l'Alassio o perché fa l'errore col Sassuolo, Fagioli fino adesso ha fatto anche troppo per essere la sua prima stagione con la maglia della Juventus la sua prima stagione in Serie A e la sta sentendo, perché lui cazzo tifa per la Juventus, tifa per la Juventus e gioca per la Juventus, la sta sentendo ma bisogna semplicemente salvarlo e ringraziarlo, guai ad attribuire le colpe, guai a mettere in croce Niccolò Fagioli per questo errore, forza Nico, 5 e mezzo a Paredes, una partita nella quale non mi fa impassire, però come dicevo prima ragazzi, smetti Casemiro oggi davanti alla difesa va in difficoltà anche lui, poi Paredes ha avuto 2-3 letture che francamente non ho capito anche sui calci d'angolo a un certo punto mi pare addirittura che non l'ho rivisto tutta la partita ma dal vivo mi sembrava che uno degli ennisimi calci d'angolo siano nati da un errore di Paredes da una spazzata di Paredes in calcio d'angolo abbastanza evitabile diciamo così però stiamo parlando di un giocatore che fino a due settimane fa sembrava completamente fuori dal progetto tecnico e adesso addirittura parte titolare quindi la gestione di Paredes mi sembra un po' imbarazzante così come quella di Barrenecea che mi collego perché fino a qualche settimana fa al posto di Paredes giocava Barrenecea adesso Barrenecea hanno fatto un comunicato per un giocatore per una squadra Juve e va a giocare con la next gen cioè capite che c'è qualcosa che tocca da le mie parti c'è qualcosa che tocca qualcosa che che non mi torna diciamo così che non mi torna non vorrei mai che quella litigata di Pasquetta abbia cambiato nuovamente le gerarchie del tipo vabbè allora se Paredes si arrabbia bisogna far giocare lui Barrenecea tornerà perché sono errori da principianti se stiamo parlando di queste cose qua come dicevo prima per i barbieri sono i ragazzi del nostro futuro non i Paredes Tossea Arrabio che per un attimo pensavo potesse regalarmi almeno la gioia di esultare e quindi non tornare a casa sconfitto dallo stadio invece purtroppo non è andata così bella spizzata di Arrabio come in occasione del gol segnato in casa col Maccabi dove ero presente tra l'altro in quella serata l'unica partita che quest'anno sono riuscito a vedere vinta allo stadio nasce proprio la doppietta di Arrabio o triplo assist di Di Maria Arrabio ci è andato vicino anche stavolta nient'altro da segnalare in una partita in cui veramente a centrocampo non l'abbiamo mai vista fra Tesi Maxime Lopez ci hanno fatto completamente impazzire 5 a Kostic che sicuramente in questo momento non è nella sua miglior condizione fisica possibile però vi voglio raccontare questo aneddoto questo voglio svelarvi questo teatrino nel prepartita nel riscaldamento quando il portiere para i giocatori hanno provato uno schema c'è stato uno schema provato e ne hanno provato uno e uno solo Kostic ha la palla dà la palla al preparatore il preparatore gliela riscarica sulla corsa e Kostic cross stop si è provata questa cosa qui stop che attenzione io adesso ve lo dico tranquillamente se l'eventus fosse in grado di replicare questa cosa 5, 10, 15 20, 30 volte a partita e se fosse in grado di fare 1, 2, 3 gol perché è così brava a sfruttare questa cosa che allora cazzo facciamola sempre il problema è che noi abbiamo solo questa e la facciamo praticamente mai e quando non c'è Di Maria la avanti non c'è modo di far girare il pallone non può arrivare non arriva a centrocampo siamo costretti a schiacciarci indietro e Di Maria è uno dei pochi che la porta su se noi siamo tra l'altro una squadra che va sugli esterni e sugli esterni non ci va diventa ancora più complicato poi venite a dire che Fagioli sbaglia in area di rigore e perdiamo per quello sembra un riassunto abbastanza fuori dal mondo e distante dalla realtà poi uno è libero di pensarla così però secondo me si sta facendo un'analisi abbastanza ristretta rispetto al campo delle cose che si possono prendere in considerazione diciamo così 5 e mezzo a Milik che poteva essere un voto anche minore però Milik dallo stadio è stato evidentissimo cercava di fare quello che fa solitamente di Maria quindi cercava di andare a prendere lo sbocco ha fatto l'elastico per tutta la partita ha fatto un ottimo lavoro secondo me di rifinitura Milik è stato molto bravo in questo poi se ti devo valutare Milik per essere attaccante titolare della Juventus si chiama Vlaovic ti dico ha fatto schifo però quanti palloni sono arrivati giocabili a Milik forse uno solo che aveva la possibilità di tirare però magari ci ha pensato no c'ho il giocatore avanti magari la gioco però non arriva mai palloni agli attaccanti ragazzi Milik e Vlaovic insieme quanti tiri hanno fatto oggi zero credo è stato un tiro di Rabiot un tiro di Rimaria che cosa cazzo di altro c'è stato all'interno della manovra offensiva della Juventus oggi il nulla cosmico se tu vieni nel deserto ti senti a tuo agio perché sembra la manovra offensiva della Juventus ho 5 a Vlaovic che invece a differenza di Milik non mi fa nemmeno quel lavoro lì di rifinitura però io ho anche qui un'altra lancia a favore del ragazzo la devo spezzare perché ragazzi è quello che dicevo prima non è che Vlaovic si innesca sì lui ama la profondità però figa ma la profondità la puoi dare anche raso terra la puoi dare bassa ci sono state due occasioni una costruita sulla sinistra dove Kostic prova dentro il pallone a Vlaovic un po' troppo lunga e una là in fondo la secondo tempo in cui Vlaovic poi non ci arriva cioè Vlaovic ha fatto una prestazione da 5 perché non è sufficiente quello che fa Vlaovic però anche qua io vi devo chiedere ma siamo sicuri che mettendo Oland mettiamoci Oland che sicuramente per quanto mi riguarda è più forte di Vlaovic magari Oland fa pure gol ma siamo dell'idea che si trovi a suo agio cioè se tu hai un attaccante come Vlaovic che sai che ha delle caratteristiche ma perché non le sfrutti cioè se avessimo Giovinco cioè se Nostro Atacco fosse Giovinco e Der che avevamo due giocatori alti così andremo comunque a tirare sulla palla palla lunga a cercare Giovinco o cercheresti di costruire una manovra volgente in grado di permettere a Giovinco di venire a prendere il problema sulla tre quarti per poi riuscire a portare la palla su no noi Vlaovic pum Vlaovic pam Vlaovic pam Vlaovic pom poi siamo qua a dire Vlaovic prende cinque ma sì ma poverino ragazzi ma poverino tu sai Federico Chiesa anche qua non venitemi a parlare di Chiesa che mi sbaglia lo stop al novantaquattresimo venitemi a parlare di Chiesa che con un nervoso incredibile là in fondo sulla sinistra mi va a sradicare il pallone una palla che 99 su 100 in serie A quella lì è rimessa dal fondo perché il difensore l'ha già preso lui ci crede lui dice io cazzo ci posso andare su quel pallone lì io posso andare a pressare il difensore gliela vado a sradicare metto pure il pallone in mezzo crea un'occasione da gol dal niente dal niente perché noi le occasioni da gol le possiamo creare dal niente non parlatemi di Chiesa che mi sbaglia lo stop perché ho già detto i troppi ma Chiesa ha sbagliato lo stop perché non mi parlate di quella roba lì perché non mi parlate del fatto che Chiesa entra e deve fare ancora una volta il quinto di centrocampo quando puoi passare 4-3-3 ma no ma no ma sarebbe troppo facile Chiesa vai a fare Kostic vai a fare il terzino praticamente queste sono le cose che mi fanno incazzare perché c'è una lettura unilaterale eh quello fa l'errore quello è scarso sì ma ragazzi i calciatori per rendere bisogna di essere inseriti all'interno di un contesto che funziona sta Juventus di questo momento qui adesso è una squadra che riuscirebbe a non valorizzare neanche Mbappé ma veramente Mbappé si metterebbe le mani ai capelli andrebbe a dire ma figa ma ragazzi ma qua come facciamo come ci saltiamo fuori sei a mezzo Di Maria perché quando è entrato è l'unico che mi dava la sensazione di dire oh sai cosa adesso da niente non parlatemi dell'errore di Di Maria che fa un errore grave sulla giocata di Chiesa non becca la porta si mangia un gol d'accordo parlatemi di Di Maria che quando entra accende la luce ti dà la speranza di pensare cazzo forse adesso possiamo provare a fare un'azione ma non è normale che il tifoso della Juventus vada in trasferta a Reggio Emilia in casa con il Sassuolo con tutto il rispetto per il Sassuolo che io adoro come squadra in Serie A dopo la Juve la squadra che mi sta più simpatica in assoluto ce l'ho anche qui vicino a casa li seguivo anche in Serie B ma il tifoso della Juventus non può andare a Reggio Emilia contro il Sassuolo e dire speriamo che a 25 minuti dalla fine entri Di Maria che così forse qualcosa si può fare ma a che livelli siamo arrivati ma non è normale questa roba non parlatemi degli errori dei giocatori oggi veramente non parlatemi degli errori dei giocatori quelli sono una conseguenza di una cosa che viene da lontano e ribadisco io mi auguro che giovedì si vinca che si vada avanti in Europa League perché mercoledì il ricorso giovedì l'Europa League se le cose non vanno come devono andare è un disastro Tossè a quadrado entra e si fa la sua sui due o tre sgroppate su e giù per la fascia Tossè a miretti che entra al posto di Fagioli anche questa cosa qua magari era già pure preventivato sto cambio però così mi distruggi Fagioli così me lo rovini completamente stiamo parlando di un ragazzo che ha il suo primo anno in Serie A fa un errore l'altra volta palla alta contro la Lazio fuori oggi assista De Frel fuori ma questo poi rischia che ti va in un tunnel come Miretti cioè Miretti in Champions League perché fa rigore contro il Benfica si fa 3-4 mesi senza giocare questi non sono cioè non è questo il modo di formare e di forgiare dei calciatori e sembra anche un po' vabbè senza voto Pogba che entra prova con un tacco anche a regalare una speranza è scemo illuso io che ho pure pensato che almeno su un calcio d'angolo al novantesimo uno si potesse portare a casa invece invece così non porti a casa niente con nessuno cioè è inutile che poi mentre sei lì ci speri ci credi e l'amore per la maglia per i ragazzi i colori poi ci pensi a mente fredda in maniera un po' più lucida e razionale e dici ma così contro chi vinci questa partita giocata in questa maniera qui senza mai tirare in porta ma contro chi vinci contro chi meriti di vincere con niente e con nessuno grazie a tutti